Ok, dai, posizione, Margaux, via, Margaux, andiamo, andiamo Margaux, vieni, bravissimo, scusiamo Carla, motore, buona, buona Davi, sì, grazie, azione, grazie. E' un po' di giro, eh? Questa è cosa mia, eh? Mi vedo dove va? Siamo stati infortunati di te, perché lì dentro ci siamo finiti da amanti! Veramente il latino lo so io? Bella, mi buona, bella, mi buona, vieni, vieni, vieni che c'è scritto. E anche il greco, con le tre classiche lei. Greco non ce ne frega un cazzo, che c'è scritto? Ehm, allora, beh, non è proprio un latino purissimo. Sì, sì, guarda il capello, dai. Racconta qualcosa che è successo nel 300, ah. No, stai già dentro. Entra, entraci al motore. Angelo, tu ci sei? Eh, andiamo. No, apriamo il motore. Hai due che resta così, oppure che mi avverso? No, no, te seguilo un pochino. Motore. Aspettiamo l'aereo, dai. Aspetta. Dai, ragazzi. Dai. Buona. Dai. Silenzio. Silenzio. Azione. Silenzio. dai che la giriamo abbiamo la riserva non dirò azione dirò solo vai chiara non state ben bonini voi la sollevo va bene non è da me non è da me non è da me Grazie a tutti. quando è iniziato il tuo film ragazzi era Vino Ren era Vino Ren un applauso alla filtra che è più bella